Devi riscaldare la tua palestra? Ecco la soluzione giusta per te. Scegli Aki, la caldaia a condensazione App & Group, e avrai il clima ideale. Progettata per essere installata all'esterno, evita l'utilizzo di spazi all'interno dell'ambiente. Aki può essere abbinata a uno o più aerotermi, a impianti a pavimento o a pannelli radianti a soffitto. E' certificata CE e costruita con componenti all'avanguardia. E chi comanda? SmartWeb, il comando intelligente di App & Group. SmartWeb, regolando la temperatura in modo ottimale, abbatte i costi di gestione e i consumi di gas. La tua palestra, un luogo ideale per allenarsi, fare sport e mantenersi in forma in un clima ideale. Grazie a tutti!